Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua, se vi state chiedendo dove siamo, siamo su un monte di presse, laggiù c'è Bailando anche se forse non si vede, affalla bella vita, noi e anche noi, anche noi, l'alicee, una grande notizia, una grande notizia da dare, probabilmente oramai il veron è come se fosse mio, così posso montare qui, ho la scuola reale, sono attentissima, e io le faccio lezioni, quindi staremo insieme, e oggi vi ho fatto i filmati, che stasera vedrete appunto, perché io li carico sempre la sera video, c'è una luce qui, sembrava a Cristo siamo, luce divina, e io ho montato Savi, Centurione e Infante, sono stati bravi, il verona è quello che stavo bravino, dai, bravo, bravo, dai, quattro giorni fermi, poi, che dire, domani siamo di nuovo qua, nel pomeriggio, ormai sempre, ormai siamo sempre qui, e praticamente lei rimonterà Biberon, e io Bailando, Bailando, e Savi, e Savi, faremo anche Biberon Bailando, ce ne hai pochi, eh, qui, di Biberon Bailando, eh, perché rimontualmente tanti, Bailando, mi fa fare la bella vita nel FADOC, poi che si può dire, che si può dire, ho visto che a grande richiesta, è piaciuto i nostri videovlog, quindi siamo liete di farne altri, domani, domani passeggeremo anche Vispino, e non sta molto bene, poverino, si, ha avuto un problemino, ha un arto, e quindi deve fare riabilitazione, quindi domani la nostra giornata sarà questa, lei esce la scuola a Luna? A Luna, poi si andrà a mangiare fuori, qualcosa insieme, si mangia, si torna qui al maneggio, si fanno le nostre comodi, si fanno le nostre cose, e poi si vacca, sta su YouTube, il video diary, che vuol dire, praticamente, hashtag, uno, hashtag, due, praticamente, tutte le volte che noi veniamo in maneggio, ogni giorno, si mette la data, e facciamo vedere i nostri progressi, esattamente, quindi, il nostro diario di viaggio, perché praticamente noi, tutte le volte siamo qua, si fa sempre qualcosa, esatto, magari se, avessi bisogno di qualche consiglio, tutto quanto, noi picc'altro qui facciamo un'alta scuola spagnola, anche solo alta scuola, sono agli albori, oggi ho provato a fare, passo spagnolo, senza questi grandi risultati, però comunque, però dire la prima volta, si, si, la prima vera volta, ho galoppato proprio la prima volta con lui, vabbè, trotto, passo, un po' di figure, ho fatto anche un'appoggiata, a caso, però è venuto bene, dai, non è venuto male, e quindi abbiamo intenzione di continuare questo percorso, insieme, tanto ormai siamo sempre insieme, e il nostro obiettivo è, a un totale di iscritti, ve lo diremo, anzi, te lo voglio dire da un diretto, io quasi quasi, voglio mettere il suo canale al mio, in che senso? In senso che Eli, Ali e bailando nel mio canale, quello con già 12 iscritti, 112 iscritti, potrebbe essere, intanto, visto che siamo sempre insieme, e tutto quanto, invece vi facciamo la vicenda, è andata via luce divina, peccato, è tornata, è tornata, è tornata, e quindi ho intenzione di fare questa cosa, perché è molto carina, sì, insomma, quell'altro si può allevare, cioè, sì, l'altro canale ha 32 iscritti nemmeno, non conviene, tanto come degli iscritti, di quelli lì sono sempre gli ricchi che ci sono nel canale, no, poi su YouTube non siamo per gli iscritti, non siamo per avere i like, no, noi, è proprio per passione, è proprio per vedere anche quello che facciamo, magari tra un po' di anni si va a rivedere indietro come l'abbiamo fatto, nei discorsi video, si va, si va a fare cretine, Comunque, se arriviamo a quanti iscritti? Allora, siamo a 112, siamo a 122, 122 iscritti, noi facciamo il video speciale, vi raccontiamo quello che faremo, quello che faremo, che è una cosa molto bella, molto interessante, e... E c'entra con un certo evento, diciamo, evento, e ci fermiamo qui a dire... Un evento, che penso già molti di voi, avranno un po' capito, ce n'è pochi eventi di fin avanti, uno particolare, quindi speriamo di arrivare a 122 iscritti, giusto? Sì, 122 iscritti, giusto? Sì, 152 iscritti, giusto? No matter where you go, I will find you If it takes a long, long time No matter where you go, I will find you If it takes a thousand years No matter where you go, I will find you I will find you In a place with no frontiers No matter where you go, I will find you If it takes a thousand years No matter where you go, I will find you No matter where you go, I will find you If it takes a long, long time No matter where you go, I will find you If it takes a thousand years No matter where you go, I will find you I will find you In a place with no frontiers No matter where you go, I will find you If it takes a thousand years No matter where you go, I will find you No matter where you go, I will find you